Masha e Orso. Volersi bene. Compagni di scuola, amici, parenti, quando vuoi bene fai tutti contenti. Se c'è l'amore non ti senti più solo, ti sembra quasi di spiccare il volo. Per dimostrare tutto il tuo affetto non esiste un modo perfetto. Segui il tuo cuore e non sbaglierai. Aiuta sempre un amico nei guai. Masha ha rotto il suo nuovo vestito e Orso lo aggiusta cucendo spedito. L'affetto si vede nei piccoli gesti, lo dicono persino le piccole pesti. Nel tempo libero Orso va a pesca e Masha lo aiuta porgendogli l'esca. La cosa più bella è essere in due, le gioie di un amico sono anche le tue. Se inviti un amico a casa a giocare, dividete tutto senza litigare. Quando Orso si sente male, Masha prova a sollevargli il morale. Fallo anche tu con i tuoi amici, vedrete che sarete tutti felici. A chi vuoi bene dai sempre una mano, insieme andrete molto lontano. Spunta il sorriso, la fatica si smorza. È proprio vero, l'unione fa la forza. Talvolta succede di litigare, non essere orgoglioso e vatti a scusare. Non serve una gran spiegazione, basta un abbraccio pieno di emozione. Se l'amore ha un sentimento profondo che viene dal cuore e riscalda il mondo, non servono regali per dimostrare tutto il bene che puoi provare. La mamma vuol bene ai suoi bambini che siano già grandi o ancora piccini. Anche se combini un sacco di guai, di volerti bene non smetterà mai. Volersi bene è tenersi per mano, guardarsi negli occhi e andare lontano. Ciò che conta non è il cammino, ma avere qualcuno che ti sta vicino. Fine